Da Copiunti che ci parla del premio Gran Pavesi Rosso Blu che oggi è stato conferito agli eroi del terremoto. Sì, è un riconoscimento al tessuto sociale San Benedettese che ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, quella predisposizione all'accoglienza che non è solo quella turistica ma è quella sociale e solidarietà. Tanti ragazzi che spesso vengono dileggiati invece si sono dimostrati aperti ad aiutare i loro cittadini ma quelli colpiti soprattutto da questo dramma del terremoto. Quindi non poteva il comune di San Benedetto del Tronto, le istituzioni non potevano non tenere presente questo grande coinvolgimento e quindi ho voluto esaltare quello che di positivo questa città ha dimostrato. Abbiamo ricevuto encomi da parte del Parlamento, abbiamo ricevuto un premio dall'Anci Nazionale proprio ieri a Bari e quindi anche la città nella figura del sindaco e dell'amministrazione insieme alla commissione del Gran Pavese ha voluto dare questo riconoscimento al nostro tessuto sociale, alla nostra grande predisposizione ad aiutare gli altri.